Nelle prossime 12 ore mi aspettano due allenamenti, il cheat meal che oggi sarà in un ristorante stellato per un'occasione estremamente speciale, diverse task lavorative e tanto tanto ancora, atleti, benvenuti in questo video nel quale finalmente vi porto in un mio cheat day mostrandovi davvero a 360 gradi come gestisco l'alimentazione anche quando, come oggi, non seguo alla lettera al piano. Partiamo subito con il definire cosa intendo con cheat day, in realtà oggi atleti si parla di cheat meal nel senso che questa sera avrò, ve l'ho detto, il pasto libero in un ristorante stellato e sono super curioso di portarvi con me ma sapete che io con l'alimentazione ho rapporto abbastanza particolare nel senso che sì, l'80% abbondante delle volte seguo alla lettera alla dieta ma mi concedo più libertà rispetto a quelle che sarebbero strettamente previste nel piano. Il motivo è semplice, io faccio tantissimo sport, lo sapete, se mi seguite questo mi porta a bruciare tante calorie e quindi necessariamente ad avere possibilità di essere un attimo più flessibile. Quando si parla di alimentazione, quando si parla di allenamento, quando un protocollo, qualunque esso sia, deve essere sostenibile nel lungo termine perché gli obiettivi sono a lungo termine a noi basta che l'80% delle cose siano fatte alla lettera. Se poi ci sono volte in cui ci si vuole godere di più una corsa e quindi gestirla in modo diverso si vuole godersi di più un pasto e quindi gestirla in modo diverso, non succede niente. E questa è la mia filosofia e la filosofia che comunque ad ora mi sta portando risultati mi sta portando a vivere molto bene un percorso che altrimenti sarebbe molto difficile da gestire. Quando parlo di gestione abbastanza tranquilla, che poi è sempre la penercole pinza atleti della dieta, quello a cui mi ferisco è il fatto che io ad esempio prevedo, mettiamola così, tre tipologie di pasto. Il primo, il pasto che segue la dieta, che sono, l'ho detto, l'80% delle volte. Uno, quello di stasera, ad esempio, il pasto libero e poi diciamo la soluzione del mezzo per cui se una sera voglio mangiare qualcosa di un filo diverso per cui voglio mangiare, non so, una pasta stravagante, sto inventando, oppure un secondo particolare, lo mangio cercando di far sì che rientri bene o male nei macro. Questo è il modo appunto di fare atleti. Oggi giornata di doppio allenamento, ve l'ho detto. Adesso sessione di upper in palestra e poi oggi pomeriggio ci sarà una corsa molto, molto, molto interessante perché per la prima volta testeremo il passo gara in modo serio. Non dico altro, siamo a poco più di un mese dalla maratonale di Zurigo, ormai il countdown inizia a essere serio. Atleti, andiamo in palestra. In my soul 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 L'autopolestra atleti in questi giorni, visto che ormai siamo nella fase di picco per quanto riguarda la corsa, i chilometri settimanali iniziano essere tanti e soprattutto la fatica derivante dalla corsa inizia a 70. Abbiamo rimodulato tutto quello che riguarda la scheda, infatti avete visto oggi che ci sono stati pochi esercizi davvero pesanti, tanti, quelli che generalmente vengono chiamati complementari, però non è questa la tematica del video, ma se mi interessa come sto gestendo anche la palestra durante appunto la fase di picco, fatemi sapere che faremo un video apposta. Atleti, ore 11 e un quarto, oh sì buongiorno, ore 13 e un quarto in questo momento, per quel momento di mettersi a cucinare. Gli atleti ho sempre ritenuto che l'alimentazione sia il vero parametro fondamentale di una... Questa cosa del campane sta prendendo un po' troppo... Dicevo che l'alimentazione è un po' il parametro fondamentale da cui una preparazione prende spunto, perché in base a quanto mangi o come mangi puoi decidere se allenarti in un certo modo, se salire di peso, se scendere di peso eccetera eccetera eccetera. Allo stesso tempo però, visto che questo video vuole essere trasparente a 360 gradi sull'alimentazione, devo confessare che come l'avevo gestita nella preparazione per Amsterdam è stato forse uno dei momenti in cui sono stato più diligente, cosa che non sono stato durante quest'altra preparazione, nel senso che in quest'altra preparazione ho sicuramente sgarato molto di più. Io arriverò a Zurigo verosimilmente con 4 kg in più rispetto ad Amsterdam che sono diversi, 3 kg in più a essere sinceri. Per cui anche da questo punto di vista sarà interessante nel senso che ogni chilo in più è chiaramente peso in più che ci si porta dietro, però ecco sono tutte cose che avremo modo di scoprire perché per ora le cose stanno andando benone insomma. Atleti, pranzo che sono 160 di pasta, broccoli, 150 di pollo e complessivamente 20 di olio. Questo è il pranzo che faccio sempre con queste quantità più o meno. Atleti, buon appetito! Ore e due e mezza del pomeriggio, vi ho detto che tra poco ci sarà una corsa molto importante, ma prima adesso ho una chiamata per quanto riguarda il coaching con Francesco, atleta fenomenale che tre giorni fa ha corso la sua prima maratona a 50 anni, ha distrutto la sua prima maratona a 50 anni. i risultati che stiamo portando erano impensabili perché adesso sono realtà, per cui tanta roba Atleti però stacco velocemente perché sono in ritardo. Ciao Francesco, come stai? Bene, benissimo, c'era tanta gente, ti trovavi galvanizzato, poi proprio stavo realizzando che la stavo finendo, cioè io ero proprio niente, prima di arrivare all'arrivo mi veniva quasi da piangere dall'emozione. Bellissimo, che figata Atleti, breviti. Se non avete mai corso una maratona, correte una maratona perché mamma mia. So le emozioni che si provano ed è davvero... Che figata. Atleti, pronti per partire per la corsa secondo allenamento del giorno? Oggi, ve l'ho detto, prima corsa nella quale per davvero andiamo a testare il passo gara perché abbiamo un 3x4000 a passo gara con poco recupero in mezzo, riscaldamento iniziale, defaticamento finale. Noi partiamo, non porto nulla per far riprese perché sarà una corsa in cui dobbiamo essere belli e concentrati e portarla a casa nel migliore dei modi, per cui ce li andrà un'ora e mezza? Quanti chilometri sono in tutto? 17 chilometri a correre velocemente. Per cui è l'evento non proprio semplicissimo. No, no, oggi... Andiamo! Una passeggiata, una passeggiata ragazzi. Ancora un minuto. Dai, dai, dai. Adesso 10 km. 10 km. Sono lì, in mezzo alla strada. Quelli veri fanno così. 17 e 57. L'ultimo è un po' più pesante, eh? Più veloci, più veloci molto anche. Sì. Ehi, 17 e 53. Atleti, la corsa è andata davvero, davvero bene. Io sono entusiasta perché questa è stata la prima corsa, cioè il primo test a passo gara perché siamo entrati nella fase di specificità, iniziano gli allenamenti a passo gara e questo era il primo. Ormai, sì. E l'abbiamo sentito davvero leggero. E questo è un ottimo, non funziona. Continuiamo a dire, cavolo, ma sembra di volare. Poi abbiamo chiacchierato un casino. Bellissimo, davvero. Posso confessare, se devo confessare una cosa, che prima dell'allamento, se devo essere sincero, ero un po' teso. Un po', eh. Sì, perché è la prima volta che proviamo questo passo gara, chiaramente, per distanze sensate. Un bel ritmo, cioè. Eppure, in senso. Non siamo abituati decisamente a tenere per così tanto tempo. No, no, no. Tanta roba. Super contento. Questi iniziano ad essere i primi segnali che la preparazione sta dando ai suoi brutti. Perché finché fai la preparazione non testi le cose, no? Quando vai alla velocità, che poi devono tenere i 4.37, mentre poi i 4.32. Bello, bello. Fabio, dieci rode. Grande, dieci rode. Adesso panino, burro d'arachi di marmellata. Elettroliti già finiti. Elettroliti già dati, esatto. Io adesso sto facendo il secondo giro di acqua. E noi ci aggiorniamo dopo. Direi che è arrivato il momento di raccontarvi un attimo meglio quello che sta per succedere questa sera, visto che vi ho accennato durante il video che oggi toccava una cena stellata, eccetera. Oggi io e Valeria, la mia amorosa, facciamo quattro anni e mezzo, da che stiamo insieme. Perché abbiamo deciso, visto che è una data abbastanza importante, di festeggiare in modo abbastanza importante. E quindi andremo a cena in un ristorante stellato qui di Bergamo. Sono estremamente curioso, perché io adoro la cucina. Sono super appassionato di cucina. È una cosa che qui sul canale non ho mai portato, ma che è una delle mie grandi passioni. Per cui vedremo di vivere questa esperienza e di portarvi per quel che sarà possibile. Perché non ho idea di cosa succederà con noi in questa esperienza. Adesso però scappo per che ora di andare. Elettroliti, per quanto riguarda la cena stellata è stata un'esperienza sicuramente diversa dal solito. Questa è la prima linea guida, il primo aggettivo che mi viene. Lo dico già, non mi ha convinto eccessivamente, però adesso abbiamo filmato cose all'interno, per cui entriamo nel merito. Vi accompagno nel menu che abbiamo degustato. E vi racconto un attimo quelle che sono state le nostre sensazioni generali. Primo piatto, una serie di stuzzichini, che si chiama Sicilia on the road, proprio perché va a riprendere per ogni città della Sicilia qualche prodotto tipico. Si partiva dal primo, un panino al vapore con tartare di tonno, sostanzialmente più qualche cremina particolare. Molto buono, approvato. Secondo, una creme brulee di caciocavallo ragusano, così la chiamano, croccantissima con dentro al suo interno della sorta di formaggio fuso, buono, 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 buono. Questo forse è stato lo stuzzichino che mi è piaciuto di pieno assoluto. Il terzo, un cioccolatino con all'interno una limonata salata, infatti si chiama limonata salata. Devo dire no, 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 no. Il limone e il sale, secondo me, non c'entrano niente, per cui non mi è piaciuto, per niente, se devo dirla tutta. Andando avanti, una sorta di polpettina di sgombro e poi una polpettina di carne, questa volta ad asino. Buone, sicuramente apprezzate, nulla di stravagante, però buone. A questo punto, quindi, chiuso il benvenuto della cucina, appunto. Pane, è arrivato pane a fiumi durante l'interacena, davvero buono. Comunque, beh, è una cosa abbastanza tipica nei ristoranti stellati. E primo vero piatto, un'insalata di tonno. Allora, iniziamo in freschezza, con un carpaccio di pesce spada nazionale marinato, salsa guacamole, sopra insalata orientale. Buon inizio. Grazie. Devo dire, era talmente buono questo che non abbiamo fatto neanche le riprese, perché l'abbiamo mangiato in due secondi, non abbiamo fatto neanche, scusatemi, dei primi piani e delle foto, perché era davvero buono. Devo dire, ancora è nulla che mi abbia stupito proprio. Il vino buono. No, stupito ancora no. A questo punto, atleti, era il momento del piatto che a regola sarebbe dovuto essere il punto fermo del menù, per cui il primo. Proseguiamo con un nostro piatto firma, che racchiude tutta la sicilianità della nostra proposta, con un sugo molto intenso di limone, ricci di mare, origano, finocchietto selvatico e sopra la bottarga di ricciola. Il profumo è già arrivato. Si sente. Grazie. Mi sarei aspettato un piatto, uno, assurdo, due, super di mare, per cui con tanto sapore di mare. La verità è che questo piatto mi ha fortemente deluso, se devo essere sincero, perché era un sapore, sì, totalmente diverso da quello a cui si è abituati, però non si sentiva assolutamente il mare, zero totale, ma solamente l'acido del limone, per cui devo dire la verità, non mi è piaciuto. Il secondo, chiamiamolo in questi termini, calamaro ripieno alla pizzaiola, lo definiscono così. Era una sorta di calamaro con ripieno di purè e sopra un sugo. Sugo davvero molto molto buono, devo dire la verità. Buono, approvatissimo, sicuramente l'avrei ripreso volentieri, però anche qui mancava la cosa che dici wow, è stravagante. Piatto successivo, il dolce vero e proprio, una sorta di melacotta, in questo caso, devo dire, ho apprezzato tantissimo la tenacia, mettiamolo in questi termini, perché non hanno puntato su un dolce stravagante, ma molto semplice, allo stesso tempo reso molto buono, per cui questo l'ho apprezzato e qui però arriva la seconda grossa nota dolente di questa cena che abbiamo fatto e cioè che solitamente ti aspetti che il finale sia un attimo il fuoco d'artificio, quello che ti lascia wow. Invece l'ultima portata sono stati due biscottini che non avevano nulla di straordinario in caffè, che era un caffè assolutamente standard, per cui anche il finale, devo dire la verità, mi ha lasciato molto deluso. Alt, accompagnati da una cosa che non mi sarei mai aspettato, da uno spicchio di mela. Non lo so, in un ristorante stellato non so quanto proporrei uno spicchio di mela, magari sono io che ho le mie idee stravaganti, però, devo dire la verità, mi ha abbastanza deluso come chiusura, perché, ecco, finire incalando non è mai secondo me una soluzione, non lo è per le maratone, non lo è tanto meno per un ristorante stellato, mi tengo in questi termini. È esattamente mela. Allora, questa è stata l'esperienza, è stata un'esperienza positiva, però ecco, mancava quella nota che ti aspetteresti da un ristorante stellato, che appunto, in questo caso, non ho trovato. Detto questo, questo è stato il mio cheat day, atleti, avanti un passo alla volta.